Siamo adattati a Gesù Cristo. Nel Vangelo delle Beatitudini, così come viene anche sottolineato dal profeta Sofonia, risalta una categoria che è molto presente nelle parole del Signore dall'Antico Testamento al Nuovo. Sono gli Annadim, i poveri di Yahweh, quelli che egli predilige. La povertà è quello che fa paura a tutti. La povertà degli ordini religiosi, quando è scelta, diventa grande merito e ricchezza davanti a Dio. Un esempio per tutti, ma prima di lui una schiera innumerevole, San Francesco, forse uno dei più conosciuti, il poverello di Assisi. Perché la povertà fa paura? Perché noi siamo abituati ovviamente ad avere delle certezze e delle sicurezze. E dunque la povertà si spaventa, perché vuol dire il bisogno e la dipendenza dalle situazioni, dalle altre persone. E non è detto che tutti possano corrispondere. E poi si affaccia all'egoismo degli altri, è il nostro. L'egoismo di chi non condivide è il nostro, di chi non vuole condividere, quando non vogliamo condividere quello che ci sembra meritorio, giusto, frutto delle nostre fatiche. E soprattutto questa paura che si mischia e si fonde in uno strano mostro che è l'avidità. L'ansia di non avere e l'avidità l'ingordigia, incredibilmente pur essendo o sembrando opposte tra di loro, hanno la stessa radice. Il nostro vuoto, l'insicurezza, il non credere alla providenza di Dio. Se il Signore insiste tantissimo su quello che è il concetto della povertà, è perché la mancanza della povertà, cioè il benessere e la certezza in questa vita materiale, ha delle conseguenze numerose. Una è quella di non attendersi altro che non continuare a stare bene qui. Quindi si perde di vista quello che è la meta della vera città, della vera terra a cui noi siamo destinati, che non è questa. Non desiderandolo più, tutta la nostra attenzione e tutta la nostra occupazione e preoccupazione si concentra qua su questa terra. Oltre a non desiderare la parte celeste, noi diventiamo ricchi di noi stessi nello spirito, che vuol dire sempre più egoisti, arroganti e pretenziosi, incapaci di avere misericordia perché non sperimentiamo il bisogno sulla nostra carne e l'indigenza e quello che sono tutte le incognite del presente e del futuro. Diventando egoisti noi diventiamo anche incapaci di misericordia nei confronti degli altri e dobbiamo dare ragione agli altri se sono nell'indigenza, spiegandolo con la loro incapacità e il loro demerito. E' per questo che Gesù dice anche guai ai ricchi perché si ingrassa, per usare così un'espressione non propriamente teologica, si ingrassa lo spirito. Ma la scrittura usa questa, torbido e grasso è il loro cuore, che vuol dire non riesce ad affinarsi né a comprendere quelle che sono le cose dello spirito, proprio perché tutto legato e involto nelle cose qui, del nostro ego, delle nostre soddisfazioni, un mondo dove quello che guida il cuore, direbbe San Paolo, è il nostro ventre, o mammona, l'ingordigia, la sete di potere. Abbiamo un altro Dio, un fondo che serviamo che è dentro di noi. Ed è per questo che Dio vuole sostituirsi a questo Dio per dare a noi quello che è la vera vita, quello che è la vita eterna, quello che non muore, perché qui tutto muore, tutto finisce, tutto è illusorio, ma viviamo d'illusioni. Questa sostituzione necessita di uno svuotamento dell'Io, dell'Ego, della psiche e quindi è una povertà interiore che viene aiutata dal vivere in una povertà esteriore. È quello che nelle Beatitudini, nel Vangelo di Matteo, leggiamo come i poveri nello spirito, Beati sono i poveri in spirito. E questo significa povertà come svuotamento dall'Ego, svuotamento dall'Io, dall'orgoglio, dalla pretesa, dal peccato e soprattutto da quella presenza nel nostro spirito di questi idoli terreni che non sono innocui perché non lasciano spazio allo spirito di Dio. Così a chi si affida a Dio una vera povertà interiore ed esteriore non può che ricevere da Lui tutta la sua grazia e tutta la sua ricchezza. Ricchezza che non è compresa dal materialista e dall'ingordo, ma è ben compresa da chi l'assaggia e sempre più ne vorrebbe. E' per questo che chi tocca queste vette spirituali per dono di Dio è sempre più affamato di Dio e disgustato dalle cose della Terra. Se noi dunque ci rivolgiamo a Dio in questo modo, con questo tipo di povertà interiore, non siamo capaci di desiderare Dio. Ecco il regno di Dio che è Dio stesso. Perché lo abbiamo assaggiato in noi con questa beatitudine che è l'anticipazione della beatitudine celeste, la vita eterna, che non avremo se non saremmo stati capaci di volerla, desiderarla e cercarla qui sulla Terra. Cercate prima il regno di Dio, tutto il resto, le cose materiali, vi saranno dati in sovrappiù, ma non peseranno sul vostro cuore perché prima voi cercate il regno di Dio. Buona ricerca dunque a tutti e che aumenti il desiderio in noi del regno di Dio, della pace beata, della beatitudine che inonda i nostri cuori e ci darà quel sangue distacco da tutti e da tutti per lasciare spazio nella nostra casa interiore, il nostro Tempio dello Spirito Santo, allo Spirito Santo di Dio nella sua interezza, nella sua potenza, nel suo possesso e nient'altro in noi sia di Dio e solo di Dio. Dio vi benedica.